Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze-Scandicci e il Bivio con la variante di Valico. Sempre verso Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Valdarno e Firenze-Sud. Per quanto riguarda le statali, sulla Aurelia a riduzione di carreggiata per lavori tra chilometri 343-800 e 343-900 tra Pisa Nord e la variante di Viareggio in entrambe le direzioni. Riduzione di carreggiata per lavori tra chilometri 226 e 231 tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale Trevi-Stiverina svincolo chiuso per lavori a Canile in direzione Viterbo-Terni. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!